Siamo un'altra storia, un slogan con cui la funzione pubblica, ovviamente, insieme a tutta Sicilia, ha affrontato le elezioni della mia campagna degli azzurri di nessuno. Se ci pensate, non è uno slogan semplice, non uno slogan banale. Non è uno slogan semplice perché siamo un'altra, non è stato usato in tante occasioni, diciamo così, non sempre, non tutte fortunate, perché non sempre prende le distanze, determina l'aspetto. E poi perché c'è l'uso della parola storia, che per noi che, se vediamo, il mondo è una cosa complessa che bisogna affrontare in tutta la sua complessità e non viviamo nei tre secondi dei 140 caratteri, la parola storia è negativa e quindi indica non l'idea che in quel momento, in quella singola situazione prendiamo una distanza, ma che abbiamo alle nostre spalle l'idea, l'abbiamo costruita in tanti anni e intendiamo dargli una grande continuità. La storia però richiama anche un altro ragionamento, che in realtà è la chiave di tutti gli interventi che ci sono stati questa mattina nelle loro specificità e nei loro riferimenti, che si chiama democrazia e quindi si chiama partecipazione. in realtà se ci pensate al messaggio che è stato dato dai Presidenti delle Municipalità per gli interventi di vari settori e abbiamo delle idee, che vorremmo confrontarci, dove loro non ci si discute, la rete, la rete, la rete e le servizia, non si capisce niente, non c'è l'idea di verso di diversità. L'ho un po' banalizzata, l'avete raccontata molto meglio, ma se la vogliamo tradurre in un filo condottore, il messaggio è questo. se non si può discutere e partecipare a quello che succede, c'è un tema che riguarda la partecipazione del sindacato, ma riguarda anche la democrazia. E quindi ci propone una domanda che sappiamo essere peggiata, ma se ne hanno un blocco contratto, la discussione che si fa sulla prospettiva, c'è un po' banalizzata. E allora, appunto, bisogna dire che siamo un'altra storia. Dobbiamo riconquistare delle cose, dobbiamo riconquistare delle cose. Lo si può fare fuori, no, bisogna farlo dentro, bisogna farlo nel nuovo lavoro. Non si può mai accettare un arrendamento sul piano della democrazia e ragionare del fatto che devono riconquistare e ricostruire. Lo sottolineo per una ragione, sento un'area che non mi piace, l'area in cui a troppi farebbe piacere che si partecipi poco al voto dell'RSE. Quell'area in fondo così potrebbe trovare degli argomenti per dire che il sindacato non è rappresentativo, potrebbe trovare degli argomenti argomenti per dire, lasciamo fare i dirigenti, magari poi nominati dalla politica, in nome dell'autonomia delle amministrazioni. Ma quell'idea che in fondo se si afferma una scarsa partecipazione poi c'è più libertà di agire come si vuole. Siamo in un'altra storia perché la storia delle RSE, delle amministrazioni pubbliche, tutte e quelle di tutti i settori è una storia di grande partecipazione al voto oltre che gli importanti risultati dell'ICG. È una stagione in cui possiamo permetterci di essere io? Credo proprio di no. Perché? Solo perché c'è una sfida con il governo, una sfida sui contratti. No, io credo che c'è un po' anche delle altre cose. Di nuovo provo a dirle tirando il filo tra tutte le cose che sono state dette. Non vi ha scritto il silenzio dopo la legge di stabilità. Taglia i comuni, taglia le proveggie, taglia le ragioni. Non è successo niente. Silenzio domina. E perché? Voglio fare un'operazione che qualcun altro farebbe il paragone con l'anno precedente, per esempio. Ma gli faccio una domanda. Come pensano di far fronte a tutti i tagli? Con le modalità che abbiamo già visto, devo affrontare lo spostamento dei lavoratori delle province a persone di fronte al taglio di contrapomo ai precari, alle carriere professionali. Così facciamo una grande guerra tra i lavoratori e nessuno discute di ciò che succede delle istituzioni e delle loro funzioni. Noi siamo così. Come nascono le città metropolitane? Con le risorse o i debiti. E quei debiti come si affrontano? Immaginando che un minuto dopo si spiegherà che non si può fare innovazione, non si può fare riorganizzazione, non si può mantenere un servizio, bisogna appartare qualcos'altro, non si danno risposte precarie. Allora, se ci si sottrae al confronto, come tutti avete raccontato, il Presidente della Municipalità ci ha raccontato, in questa città quello che doveva fare la direzione, si sottrae al primo livello di confronto che è quello di mettersi d'accordo con chi lavora nella sua amministrazione ha i figli di renderla più efficace e non dice nulla sui tagli. Forse c'è un'idea della pubblica amministrazione che non funziona più. Noi quell'idea di là dobbiamo contrastare. Se non altro, io credo che lo dobbiamo contrastare perché noi siamo molto importanti i cittadini, i servizi, le risposte che dai, diceva Rossano, la pubblica amministrazione amica delle persone che hanno un salto di qualità rispetto al giudizio che dice in giro. Ma penso che dobbiamo avere un'idea della città anche, solo, semplicemente, perché non si può vivere senza avere la prospettiva e non si può pensare che è una città che sta per diventare la più grande città d'Italia, nel momento in cui sarà la città metropolitana, affronta questa cosa puramente con un tema buon pratico. Vi dice nulla il silenzio di queste ore degli amministratori delle regioni del sud sui dati pubblicati ieri dall'Istab e da Svimers? Silenzio. Ieri è stato detto che il rendito dei migratori del mezzogiorno è diminuito del 25%, è stato detto che il divario ha aumentato di un terzo. Silenzio. Non so se qualcuno stia sperando del ministro del mezzogiorno, mi auguro di no, anche perché rischiamo di avere il ministero del mezzogiorno e non avere più il ministero della coesione sociale, le parole sono importanti rispetto a quale significato. Ma, vuol dire, sembrerebbe quasi che il ministero non si nega a nessuno, ma qual è la politica per il mezzogiorno? Se l'unica questione che continua a venire posta è che bisogna togliere il confinanzamento dei fondi strutturali, che bisogna fare trasferimenti di risorse verso il mondo, che non c'è una politica degli investimenti e sulle amministrazioni pubbliche rimane solo l'aspetto incredibile, scusate, che risposta si dà al mezzogiorno? E c'è ancora qualcuno che pensa in questo paese, dopo questi sette anni attraversati in questo modo, che non dando risposta al mezzogiorno il paese riparte, non so dove vada, vuol dire, ammesso e non concesso che ne vada. Ma se quelli sono numeri, vuol dire che nelle grandi città del mezzogiorno, non sono una delle grandi città, è successo qualcosa, vuol dire che noi abbiamo dimensioni della povertà del tutto diversa da quelle che avevamo sette anni fa, non nell'altro secolo, non so quando, ma quando è iniziata la crisi. Se le dimensioni sono queste e non lo erano i numeri di due o tre anni fa, vuol dire che come è evidente, la crisi che si sovrappone negli anni ha un effetto acceleratore. Posso dire un altro silenzio di questa stagione? Le periferie sono scomparsi. Si sono viste tutte le campagne elettorali, tutte fatte in nome delle periferie. Il giorno dopo il problema hanno i centri storici e le attività di vetrina. Vale per la capitale e vale per le grandi città del mezzogiorno. Al divario ha la crescita della povertà, non ti occupi delle periferie e poi ti stupisci, ma non ne paghi. Cresce l'abbandono scolastico, cresce la difficoltà di inserimento, tanta gente fa le valigie se ne va, cioè tutte queste cose che sono dirette a conseguenza di qual è il governo economico che tu fai, non si nominano più, per cui non sono più. Ma quale dovrebbe essere il progetto di una grande città del mezzogiorno se non provare a domandarsi come trattiene quei giorni, come evita che ci sia una riduzione dei saperi e quindi l'abbandono scolastico, come fai a fare politiche che non siano affidate al volontarismo delle persone di tenere insieme delle forme di assistenza, ma sono politiche di sostegno concreto ad uscire dalla trappola della povertà e dalla trappola della separazione e poi bisogna dare per paginarsi. Contesto, di cui ti domani che economia c'è se sei a tre anni, come fai a spostare, come fai a riconquistare alla pubblica amministrazione e cose che dalla pubblica amministrazione sono state sottratte, considerando che bisogna restare avendo magari un'idea una popolazione di 3 milioni e mezzo di persone, probabilmente, che non è fatta di territorio deserto, è fatta di grandi concentrazioni, di grandi comuni, di contesti anche differenti tra di loro, di necessità di ricostruirli, di metterli in rete, di punti di deindustrializzazione su cui devi intervenire e di punti in cui invece hai delle attività, in cui due o tre cose dovresti proporre come te. Quale sviluppo di immagini che contributo può dare la pubblica amministrazione rispetto all'idea di sviluppo? E allora, come si fa a immaginare una riorganizzazione, non mi dico di tutta la macchina, ma della macchina è il Comune di Napoli. Come sempre ci sono due strategie. Puoi pensare, è molto di moda in questa stagione della politica, che tu sei imparato e autosufficiente. Cioè, basta che lo pensi e tu fai il progettivo in maniera. Oppure ci si può interrogare se il Comune, come qualunque grande comunità dell'amministrazione, è un luogo di saperi. È un luogo di saperi dei lavoratori che derivano dalla loro esperienza, dal come si sono misurati con i problemi, dal come hanno trovato soluzioni perché magari l'amministrazione non gliele forniva, di come sono arrabbiati giustamente anche di fronte al fatto che i problemi non si risolvano. E poi a utilizzare positivamente quei saperi. Se avranno bisogno di scoprire che i saperi esistono, basta che ascoltino questa mattinata e forse scoprono che ci riconosce come ha fatto il Comune. Non nel suo senso di cacciare una piantina, ma nel senso che lo viviamo quotidianamente e abbiamo idea dei problemi, che c'è chi ha entusiasmo per lavorare nella pubblica amministrazione e si arrabbia non perché si sottrae al lavoro della pubblica amministrazione, ma perché non riesce a farlo come vorrebbe fare. E scoprirebbe che non c'è quell'idea che invece continua a guidare il rapporto della pubblica amministrazione che facciamo tanti piccoli compagni stagni dove nessun compagno tra di loro e minchie mai presentano i cittadini perché potrebbero essere inclusi nella vita della città. E invece c'è un'idea che se tu ragioni di un servizio e lo metti in rete con un altro, puoi cambiare la condizione dell'impressione. E c'è un'altra idea che ocari l'idea che se il Comune di Napoli nel territorio di Napoli, non in una strada, torre d'Avoglio, dove esserchi e sistemi. E alla parola, per esempio, il decentramento non dai un significato burocratico, dai una relazione tra come funzioni e il rapporto con i cittadini, considerando che poi il decentramento del grande città può dire ha delle dimensioni maggiori di tanta parte delle comunità. non è che siamo qualche decina di persone, più o meno un sindaco le conosce tutte e non riesce alla sera. No, c'è una dimensione, come dire, della città un po' diversa. Serve? Serve la RSO per tutto questo? Sì, serve. Serve perché anche nella stagione del blocco contrattuale, non solo deve costruire l'iniziativa per smontare il blocco contrattuale, ma serve perché deve dare voce nell'idea di cambiamento complessivo dell'amministrazione nei confronti di chi la dirige dal punto di vista amministrativo e dal punto di vista politico dell'amministrazione. Serve perché bisogna che noi continuiamo, insistiamo, ci ostiniamo a dire che se si continua a considerare il lavoro unicamente una merce, non si fa solo un disastro per quei lavoratori e per quei lavoratori, si fa un disastro per il paese. Perché in realtà quando il governo decide che l'unica risposta che ci dà è la monetizzazione dei diritti, strana traduzione di tutte le crescenti, ma oggettivamente quella di una monetizzazione dei diritti non crescente neanche tanto, quando il governo dà questa risposta dà un'idea che è quella che tutto è trasformabile nel denaro, tutto è complesso, pensate che cosa può dire per una pubblica amministrazione l'idea che tutto sia trasformabile nel denaro. E non parlo di stranze inesistenti. Quando per esempio invece che somministrare della formazione si dice che non faccia, quando invece che pensare al fatto che devi costruire una campagna contro la dispersione scolastica pensi a un uomo, quando come ricordava Rossana invece di lavorare sulla capacità di occupazione delle lavoratrici gli dice ti do un bonus ma non ti costruisco gli assinti, sta in realtà monetizzando sistematicamente la protezione di tutela delle persone. Ma se l'amministrazione pubblica deve monetizzare tutto, servono delle ragioni, non è che serva una capacità di erogazione qualificata del servizio. Ma se serve solo l'erogazione dei bonus dopo di che la comunità non c'è più. Perché la vera e straordinaria funzione delle amministrazioni pubbliche che sono interfacce come persone, con la loro condizione, con le loro difficoltà, con la possibilità di rilevare i bisogni che ci sono e quindi di come devi trasformare le tue risposte. Perché quando con passione ci si parla dei servizi per l'immensa, si parla dell'idea di coesione delle persone che abiteranno in futuro questa città e che possono nascere come persone che non vedono nulla intorno a loro, con una collettività che sa interagire, sa costruire. Allora la sfida dell'RSU, la sfida che noi stiamo facendo per affermare che il lavoro è la dignità delle persone, è una sfida di uno straordinario. è esattamente la ragione perché quando c'era un ministro che diceva che noi eravamo i fanbloni, ci offendevamo moltissimo, ma è esattamente la ragione per cui sappiamo che se non riusciamo a cambiare le amministrazioni, a costruire le ragioni, il sentire popolare continueranno a acheggiare quelle cose e noi non possiamo permettere che acheggino quelle cose. ma c'è ancora una ragione per cui è successo. Il livello tra nord e sud del nostro paese è dato a tante cose. La prima delle guardie di differenziale di tasso di occupazione che c'è, differenziale di tasso di investimenti, di presenza della produzione. Ma una parte di quello di differenziale è anche l'uso che è stato fatto di questo territorio, le modalità in cui è stato utilizzato, è anche quel tema che si chiama come funziona la legalità della corruzione. Non perché sia un tema del mezzogiorno e non di tutta Italia, ma perché anche qui dove le risorse, solo meno il fatto che vennero disperse nella corruzione e nell'illegalità rappresenta un doppio svantaggio perché ha un effetto moltiplicativo nell'assenza di risorse. e forse anche qui bisogna fare un saluto di qualità e vorremmo dire ai tanti che quando non sanno cosa dire spiegano la colpa nostra anche questo, perché non abbiamo questo strano meccanismo per cui quando non si sa cosa dire non c'è sempre dei lavoratori che sono colpevoli a tutto quello che sta succedendo. Perché anche se fossimo questa cosa per cui tutto passa da noi, forse meriteremo un'altra attenzione di quella che ci viene riconosciuta, ma al di là di questo, il tema rimane questo. Bisogna che diciamo con più forza quello che conosciamo. Qualche giorno fa il procuratore D'Antone che sta all'autorità di corruzione ha spiegato a noi, l'ospedale in casa. Ecco, noi vorremmo dirgli che per due anni non ci ha ascoltato nessuno, mentre noi dicevamo una cosa. Forse perché pensavano che i lavoratori si diventano, forse perché pensavano... Ecco, allora, anche da questo punto di vista vorremmo spiegare a tutti quelli che stanno affogando in questo periodo che la rappresentanza dei lavoratori, l'RSO, il voto, il riconoscimento dei sottacati federali del nostro primo sogno, sono anch'essi un presidio di legalità e che se fossero un po' meno appunto nella logica del non guardare, tante cose si sarebbero viste più. Mi pare che la Italia, qual modello di sviluppo, la nostra competenza, la capacità di indicare come bisogna riorganizzare alle ragioni della contrattazione che manda insieme a qualche riorganizzazione perché non esiste riorganizzazione contro i lavoratori e ha invece efficacia straordinaria una riorganizzazione che corruge i lavoratori. E nessuno viene a farci quelle solite prediche che voi non volete lavorare, non siete disponibili e così via. Noi vogliamo lavorare bene, non vogliamo lavorare. Perché a lavorare bene si determina efficacia qualità del lavoro e qualità della risposta ai cittadini. Poi dentro questo discuto gli orari, discuto le modalità, discuto le impostazioni, ma bisogna partire dall'idea che puoi lavorare concretamente, che gli strumenti sono un sussidio al tuo lavoro, che la esplicita possibilità di agire ti permette anche di affrontare concretamente il taglio invece di altri strumenti che non sono più disponibili. Allora, c'è una relazione molto stretta tra la nostra idea di riforma e le azioni del PSU, l'idea di condizione del lavoro che noi ci immaginiamo. Rossana e il Magliette dicono che per le regole abbiamo votato e abbiamo vinto. Come la si può rappresentare questo dittore, con il fatto che questa volta finalmente possono votare le somme legibili lavoratori per carri. È piccola. Abbiamo, come dire, anche immaginato, sperato delle cose di più, però è l'affermazione di che cosa vuol dire per noi democrazia e di che cosa vuol dire per noi il voto come l'elemento che esprime la coesione dell'insieme. Il fatto che collettivamente si possono cambiare le condizioni. Perché tra le tante cose che succedono e che succede anche in quelli che stanno più o meno ostacolando la campagna per il voto, le varie forme in cui tutto ciò si fa, in realtà stanno cercando di ostacolare una cosa precisa, e cioè quell'antica regola della storia che insieme si cambia il mondo da soli si rischia solo l'isolamento. E nel resto sono uno straordinario strumento che ti permette di rappresentare il tuo voto e che ti permette di contrastare questa stagione in cui sembra che l'unica risposta possibile è quella dell'individualismo. No, la condizione di lavoro è collettiva e nel momento in cui si prende coscienza che una condizione è collettiva nonostante le differenze si è in grado di trasformare. Il contratto nazionale è importante perché è una condizione una risposta collettiva. La contrattazione nei luoghi di lavoro, nella definizione della riorganizzazione come nella definizione delle condizioni concrete è importante perché partendo da rientrificare che c'è una condizione e una correttiva sei in grado di modificare l'unica. Non vi racconto che è semplice. Siamo in una delle situazioni più difficili della nostra storia. Siamo anche di fronte delle cose che, come dire, se ce l'avessero chiesto qualche anno fa non ci saremmo mai immaginati su quali sono le modalità per cui si interviene sui diritti del lavoro e sulle loro condizioni. E sappiamo che abbiamo davanti un tempo lungo nel quale dobbiamo reagire e costruire le iniziative. E sappiamo che l'iniziativa è fatta delle tante iniziative che facciamo, tra lo sbuoco dei contratti del pubblico impiego, la qualità della riforma, alle iniziative della mobilitazione sugli ammortizzatori, sulle condizioni, contro la legge elettrica, sul lavoro nelle sue varie articolazioni. E siamo convinti che ce la possiamo fare. Perché la fondamentale differenza tra chi dà il messaggio di una merce e l'unica è che noi sappiamo che ogni giorno abbiamo davanti delle persone. E delle persone sono tali non solo perché lavorano, vogliono un rete, tra così. Ma sono tali perché in quel lavoro ci mettono alla linea di libertà, di dignità, di costruzione di un progetto, di risposte, perché solo così possono avere passione. E di passione i lavoratori pubblici ne hanno tanta per avere retto a una stagione di insulti, di difficoltà e così via. E allora, esattamente perché siamo persone che possiamo permetterci di dire che siamo un'altra storia, ricordarci di tante cose che abbiamo fatto, ma soprattutto abbiamo dovuto avere la straordinaria convinzione che votare e far votare è la conferma il mantenimento del nostro ordinario strumento democratico. E che se può, in quel votare e far votare vince la nostra organizzazione, siamo anche un'altra storia. Grazie. 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 Grazie.